Giorno da Casa del Papi, sono le 8 di mattina e ci facciamo un po' le unghie, sì, ci dobbiamo fare un po' le unghie perché è giusto che sia così. Lei è bella, si vede che è bella, lo so che si vede che è bella, no, lei è la nostra bella che cerca una casa, nessuno ancora ha chiesto di lei perché qualcuno ha detto, dice no, non ci piace questo colore, vogliamo un gatto o un altro, ma che cazzo andate cercando dai gatti, questa è una meraviglia, diglielo un poco che tu non meriti mica tutte le famiglie del mondo, no, no, ne meriti solamente una ma fatta bene perché lei è bella e si trova a Casa del Papi e ve la facciamo vedere oggi in questo video, brava, saluto a tutti, ecco, damose una bella pulita, trattamento antiparassitario, serve per lei il Surolan che ci necessita per tutte le cure che gli stiamo facendo a queste orecchiette che quando l'abbiamo trovata era davvero nera, nera, nera. Se vi interessa bella, contattateci attraverso il nostro numero Whatsapp, se vi interessa pure Totino che si mangia le crocchette d'è bella perché li diamo abbinati, altrimenti non è possibile, potete sempre contattarci, questa è la nostra bella a Casa del Papi. Oh, tiè, eccola!